Qual è il problema della vostra scuola? Le aule inagibili, l'aula LIM che sarebbe il nostro laboratorio di lingua inagibile, i bagni inagibili, crepe, intorno a cui si stacca, siamo senza palestra, ce n'è di tutti colori. Cosa vi ha promesso l'amministrazione, il sindaco? Che incominceranno a fare dei lavori e ci traranno aggiornati con vari incontri. Noi ci speriamo e aspettiamo questi lavori. Tornerete a scuola oggi, tornerete da domani? Noi domani torniamo a scuola, ma oggi non vogliamo entrare in questa scuola perché non ci sembra giusto, perché una cosa bisogna farla bene. Quindi voi date ancora quanto tempo al comune per intervenire? Le vacanze natali, entro le vacanze natali vogliamo che qualcosa si risolvi. Noi domani, noi domani, noi domani.